Rendi conto 2016, Landella respinge le accuse al mittente, cioè ad Augusto Marasco e alla minoranza di centrosinistra che per il sindaco di Foggia sono i veri artefici del crack finanziario al comune. Augusto Marasco ancora non digerisce la sconfitta e continua a scimmiottare sui conti del comune di cui ne porta la responsabilità come centrosinistra perché dovrebbe spiegare prima ai cittadini e poi anche alla Corte dei Conti le varie domande, come mai sul piano erano previsti 3 milioni e 2 di debiti fuori bilancio prodotti dal centrosinistra e ci siamo ritrovati con sendenze esecutive che dovevamo approvare l'anno scorso e quest'anno debiti pari a 7 milioni e 6 all'anno quindi più del doppio rispetto al piano che loro hanno approvato e deve spiegare Augusto Marasco e il centrosinistra come mai hanno quantificato alcuni beni che dovevano essere venduti e non hanno trovato allocazione probabilmente hanno quantificato in maniera sovrastimata questi beni e deve anche chiedere Augusto Marasco ai suoi amici di centrosinistra come mai hanno scelto una società che hanno decantato alla città, alla comunità come una società sana e forte come l'AIPA per fare la riscossione dei tributi società con un agio più del doppio rispetto alla media nazionale e quindi economicamente svantaggiosa che questo comune ha tentato più volte di mettere alla porta e purtroppo il tribunale amministrativo ha fatto rientrare dalla finestra. Questa amministrazione non sta aumentando di un euro la tassa locale non ha contratto un euro di debiti rispetto al centrosinistra che ha sfondato i conti pubblici e nel frattempo rispetto a quello che ha fatto Augusto Marasco in termini urbanistici non ho fatto speculazioni edilizie